Sono Muccioli, Romagnolo, corso degli anni 60-70 con tutti i più grandi campioni di quell'epoca, da Gimondi con gli italiani, da Gimondi, Pitossi, Miglioli, Motte, Dancelli, tanti altri con i grandi campioni con Giacchiettel, con i due altri, Simpson, campione del mondo in quel periodo, ha fatto un genere di romanzia con lui, che ci ha staccati tutti dall'ottima salita e abbiamo vinto con la maglia del cavoleno. È stato un periodo, forse, uno dei più belli della storia del ciclismo, è stato quello, per me. E adesso cosa state facendo? Adesso facciamo turismo per beneficenza, un'orologia importantissima per i testicoli, una prevenzione che si fa in Italia, il nostro professore di Roma, andiamo a furino per le amare, è la prima tappa del Giro d'Italia, e lì ci saranno incontro anche con questa tappa, ma dai. Grazie. Grazie.